Allora, io non sono un critico musicale e ho pensato però di fare un film che parla di musica perché quella era la musica che ha accompagnato da un lato la mia generazione e dall'altro l'Italia in uno dei cambiamenti più clamorosi, più notevoli della sua storia. Sto parlando della musica degli anni 60, quella quando c'erano i film musicali. I film musicali sono un po' lo spunto per raccontare quel particolare periodo ma abbiamo cercato di fare in maniera che nel film venisse fuori anche come l'Italia cambiasse radicalmente in pochissimo tempo diventando da paese agricolo paese industriale e da paese con mille centri un concentrato di tante persone nelle grandi città che infatti crescevano a dismisura. L'Italia cambiava e cambiava anche il gusto dei ragazzi che per la prima volta nella storia italiana avevano dei soldi da spendere proprio loro per i loro gusti. Quindi potevano comprarsi i blue jeans, potevano comprarsi le giacche dei Beatles, gli stivaletti dei gruppi rock e anche comprarsi i 45 giri con la loro musica che non era più la musica per tutta la famiglia come era nella storia della tradizione italiana. Cioè quando cantavano Mamma era una canzone che andava bene dai bambini di due anni fino ai vecchi di 90. Invece quella musica lì era dedicata solo a un periodo della vita che andava dai 10 ai 25-30 anni. E questa era una rivoluzione veramente molto importante. Io mi ricordo di averla vissuta perché all'epoca ero tra le medie e il liceo e quindi in quel periodo ho proprio raccolto il fatto che la musica diventava un fatto identitario. Cioè se tu sentivi quelle canzoni, le canzoni beat, le canzoni di protesta e così via e vedevi un altro che sentiva le stesse canzoni, li trovavi affratellato a lui. Magari nasceva un viaggio con questa persona, si andava a fare delle cose insieme, ci si scambiava delle opinioni. C'era una specie di carta di identità avere un 45 giri di un gruppo di cappelloni di quel periodo. E sicuramente una grande cosa di quel periodo è stata anche che quel tipo di musica arrivava dall'Inghilterra, infatti si chiamava British Invasion, e anche dagli Stati Uniti. Però qui in Italia arrivava modificata. Teniamo presente che le versioni italiane di quelle canzoni, allora le canzoni si traducevano. Alcune sono ridicole, con testi completamente diversi dall'originale, ma altre le facevano, non lo so, Buccini, Luigi Tenco, cioè degli autori che avevano tante cose da dire e tante cose da raccontare. Quindi in qualche modo la cultura italiana mediava con quelle canzoni che arrivavano da fuori e ne usciva fuori un pezzo unico, che è proprio quello che viene raccontato dentro il mio documentario. Io penso che quella musica sia una musica che ha ancora una sua attualità, anche semplicemente per il fatto che non c'è programma radiofonico televisivo di musica, che non ospite al suo interno almeno una parte di canzoni di quell'epoca naturalmente rimixate, rieditate, riarrangiate e ovviamente con nuovi interpreti. Quindi vuol dire che è una musica che ha lasciato il segno e continua a lasciarlo. Non penso neanche che fosse giusto, infatti ho cercato di non farlo, un film che raccontasse la nostalgia di quell'epoca, perché io non ho nostalgia di quell'epoca, mi sono molto divertito, mi è molto piaciuta, ma poi è un'epoca che finisce, tutte le epoche finiscono e viene un'altra dopo. Quindi bisogna assolutamente non pensare a quella come l'età dell'oro che poi va a corrompersi via via, come ci insegna il sommodante. Ci sono proprio dei passaggi che vanno ben tenuti presenti quando si racconta un fatto storico. Non penso neanche che quell'epoca possa insegnare delle cose particolari oggi, per un semplice motivo. All'epoca, quando c'era una moda musicale, quella moda musicale era di tutti. Adesso l'offerta è talmente grossa che anche semplicemente scanalando nelle radio, beh, si passa da Rhythm & Blues al Revival anni 60, all'heavy metal, al punk, cioè tutto è contemporaneamente, tutto è a disposizione. E noi siamo abituati anche ad andare in rete e trovare qualsiasi cosa, da un filmato degli anni 30 fino a uno youtuber che ha fatto il suo film l'altro ieri. Quindi oggi chi vive la situazione attuale non deve pensare che c'è stato un periodo fantastico e poi adesso ci sono delle contraddizioni molto più grosse. Semplicemente la vita oggi è diversa, la viviamo in maniera differente. Oggi per esempio quel fenomeno di andare al cinema per vedere i protagonisti dei film non avrebbe senso. Infatti i film musicali oggi con gli autori contemporanei non vanno particolarmente bene. Possono essere un evento, uno o due giorni, ma non hanno grande successo. Bisogna proprio spogliarsi di questo atteggiamento e pensare che ciascuna epoca ha i suoi tempi, i suoi modi, le sue culture e la sua maniera di divertirsi. E poi ancora un elemento abbastanza importante che ho cercato anche questo di mettere dentro il mio documentario è che noi raccontiamo un periodo nel quale le cose venivano vissute in maniera vorticosa e che oggi sembrano un progresso in positivo assolutamente evidente. Si passa dalla contestazione generazionale a quella politica, il 68, l'occupazione delle scuole. In realtà all'epoca non era tanto vissuta così. Cioè i vecchi militanti impegnati trattavano molto male noi giovani che avevamo i capelli lunghi e che sentivamo queste canzoni. Ci davano dei qualunquisti, dei disimpegnati, della gente che non sapeva, non aveva valori e così via. Credo che la svolta vera all'epoca fu l'alluvione di Firenze del 66. Come sapete a Firenze è stata una grande alluvione, fango dappertutto, biblioteche distrutte. Arrivarono da tutta Italia dei ragazzi tra i 15 e i 25 anni volontari, rimasero lì dei mesi e praticamente salvarono tutto col loro lavoro. All'epoca non c'era protezione civile, non c'erano tutta una serie di meccanismi che oggi ci sono. Bene, quelli giovani erano gli stessi che venivano tacciati di qualunquisti, di fine dell'ideologia. Il termine fine dell'ideologia che oggi viene usato molto spesso dai sociologhi nasce proprio in quegli anni. Noi eravamo quelli della fine dell'ideologia, poi come si è visto non era proprio esattamente così. Insomma è un po' il paese al suo quadro, siamo riusciti a metterlo. Credo che questo documentario è semplicemente la testimonianza di come si vivevano in un'epoca e come quell'epoca anche grazie alla musica ha cambiato radicalmente per sempre l'Italia che continua ad essere il paese in cui viviamo. Io sono stato uno dei fondatori dell'attuale Torino Film Festival nel 1982. Era un piccolo festival, io all'epoca avevo 28 anni. Quelli che lavoravano con me erano Alberto Barbera che ne aveva 31, Roberto Turigliato che ne aveva 30, quindi eravamo abbastanza giovani. E abbiamo pensato a un festival che avesse un pubblico metropolitano. Fino a quel momento i festival si svolgevano tutti, se ci pensate, in luoghi di vacanza, di divertimento, località termali, Salsomaggiore, Montecatini e così via, oppure località di turismo, Venezia, Taormina, Sorrento, Cannes e così via. Noi abbiamo cercato di fare un festival che si svolgeva in una città che oggi è un po' turistica, ma all'epoca non lo era assolutamente, era fuori dalle mappe. Era una città grigia, post-industriale con tante fabbriche chiuse e così via. Quindi abbiamo cercato di fare un festival che intercettasse proprio il pubblico dei ragazzi che facevano i licei, le università e così via. E quella formula credo che abbia funzionato. Era la formula che noi chiamavamo cinema giovani. Poi via via questo festival è cresciuto. A un certo punto, per questioni proprio di brand, come si dice adesso, nel 1998 abbiamo deciso di cambiare il nome Torino Film Festival. Il festival è continuato a crescere in quegli anni. Io poi sono stato direttore fino al 2002, esperienze che poi ho chiuso, ho incominciato a fare altre cose nella mia vita e l'ho continuato a vedere crescere con tanta partecipazione di pubblico e con un numero sempre crescente di film. Non so adesso, il discorso è più generale, non so adesso i festival cosa debbano essere. Una volta erano un'occasione unica per vedere i film, perché se tu non andavi a Torino piuttosto che a Pesaro o a Venezia, quei film non li vedevi. Infatti io mi facevo dei viaggi in seconda classe sul treno per andare a Pesaro, disastrosi, sette ore e mezzo arrivavo distrutto, però sapevo che se non lo facevo quei film non li avrei visti. E molti ragazzi più giovani di me negli anni Ottanta facevano lo stesso venendo a Torino. Oggi in realtà i film inaccessibili non ci sono più, perché con la rete legalmente o anche illegalmente riesci a guardare quasi tutto. Quindi il motivo per cui uno va al festival deve essere un motivo diverso. Deve essere che tu hai una unicità in quel festival che può essere rappresentata, o dagli incontri con gli autori, o dalle masterclass, o da un certo tipo di proposta che viene spiegata dalla direzione. Questo credo che dovrebbero fare i festival che debba fare anche Torino Film Festival. Oggi credo che il festival di Torino debba porsi questo problema, come devono porsolo tutti i festival, deve trovare una sua identità. Non basta aumentare il numero di film, non basta moltiplicare l'offerta per rendersi interessante. Credo che sarà un problema che già un po' si vede apparire e che probabilmente si farà ancora più pressante nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Credo che bisognerà semplicemente che le persone che lo fanno si siedano a un tavolo, facciano dei brainstorming e soprattutto che ci sia un ricambio generazionale. Quello credo sia abbastanza importante. Questo è un festival che deve intercettare soprattutto il gusto dei giovani, che sono la maggior parte del pubblico e posso garantire che il gusto dei giovani non è il gusto di quelli che hanno 60 anni. Cioè bisogna, si può dialogare ma non si può pretendere a monte di dire che cosa piace ai ragazzi. Devono anche essere i ragazzi a dirlo e noi quando il festival è nato eravamo davvero dei ragazzi. I festival sicuramente sono stati nel passato un aiuto fondamentale alla distribuzione perché per esempio proprio a Torino negli anni 80 abbiamo fatto vedere per la prima volta in Italia i film cinesi, i film iraniani che all'epoca non avevano nessuna distribuzione in Italia e grazie a noi qualcuno di questi si è affermato. Ho sempre più dubbi che oggi i festival servano di per sé la distribuzione dei film. Lo prova il fatto che il film che ha vinto Venezia quest'anno non è stato acquistato in Italia. Allora se il leone d'oro non riesce a essere appetibile per una distribuzione, è vero che è un film che ha una durata abnorme e così via, però insomma è già successo anche in passato. Per esempio durante un mio festival proiettammo Satantango di Belatar, che erano otto ore, quel film ha avuto una distribuzione in Italia. Credo che il problema della distribuzione sia un problema abbastanza serio che però va oltre la natura dei festival, va oltre anche perché i festival oggi non hanno più la forza di impatto di garantire poi quella distribuzione. È un discorso che va fatto con le sale, con le sale del sé in modo particolare, con i circoli del cinema. Bisogna probabilmente creare una rete di amanti del cinema in ogni città che si fa carico di fare quella cosa che una volta si chiamava il passaparola e cioè che quando c'è un film si impegnano ciascuno a portare quattro amici a vederlo. Per certi film d'autore bastano dei numeri molto piccoli, quello è molto utile. Non è detto che un festival, assolutamente un festival che tende a ingigantirsi e quindi a proporre tantissimi film, magari selezionandoli con meno attenzione, possa essere una spinta decisiva al fatto che questi film vengono distribuiti. Il mio documentario si chiama Nessuno ci può giudicare, parafrasando una nota canzone di Caterina Caselli. È un documentario nel quale parlano molti protagonisti di quegli anni, da un regista che si definisce rock marxista a degli interpreti che rappresentano praticamente credo tutto l'arco delle posizioni ideologiche che siano possibili nella musica, proprio come era all'epoca, proprio come era in quel periodo in cui la musica diventava un fatto che andava oltre l'ideologia politica, era un momento di cultura o di subcultura, come dicevano alcuni all'epoca, generazionale. Io ho cercato di raccontare quello, ho cercato di farlo con un grande uso del materiale d'archivio, perché il cinema è l'arte del Novecento e il Novecento non puoi raccontarlo senza il cinema. Ho attinto soprattutto da tre fonti, che sono l'archivio dell'Istituto Luce, che è, credo, l'archivio audiovisivo sicuramente più grosso d'Italia, probabilmente d'Europa. Ho attinto alla Titanus, che distribuiva i film musicali negli anni Sessanta, che sono stati molto generosi nel rapporto con questo documentario. E poi ho un archivio torinese, che si chiama Superottimisti, che sono dei ragazzi che raccolgono il Superotto nelle famiglie torinesi, quei formati che sono gli antessignani dei video e dei digitali di oggi, che si usavano per filmare, non so, la cresima, la comunione, il matrimonio, la gita, la festa e così via, e che sono degli straordinari squarci di costume e soprattutto sono tra i pochi documenti a colori degli anni Sessanta, perché negli anni Sessanta la televisione era in bianco e nero e gran parte dei cinegiornali erano anch'essi in bianco e nero. Quindi il mix di queste tre cose ha dato origine a un documentario che, come dicevo, vorrei tanto non fosse preso come un revival della mia jeunesse dorée, ma si è invece visto come uno sguardo che racconta un periodo e cerca di raccontarne anche gli anfratti, le cose meno note, i particolari, perché tutti questi particolari convergono a uno dei mutamenti epocali più importanti che ha attraversato il nostro paese.